Due giorni fa l'Asla aveva disposto un provvedimento di non praticabilità dell'area dell'ippodromo di Agnano ma nonostante questo stamattina alle 6.30 i fantini hanno divelto le transenne che erano state poste per impedire l'accesso alle piste e hanno fatto comunque allenare i cavalli. Sequestrate dalla Polizia Municipale sia la pista interna che quella esterna i fantini all'arrivo degli agenti sono scappati via a chiamarli gli uomini della custodia. Secondo quanto si è appreso il provvedimento era stato adottato per problemi di manutenzione che avrebbero potuto mettere a rischio l'incolumità dei fantini e dei cavalli. In sostanza la pista del Trotto è piena di buche, quella del Galoppo è diventata una foresta ma ciò che si percepisce all'interno dell'area è un totale stato di abbandono e problemi di natura igienico-sanitaria. Spazzatura ovunque, l'etame è abbandonato, addirittura una betoniera e un frigorifero abbandonati in uno slargo adiacente a alcune scuderie. O ancora strutture fatiscenti e cadenti, articolati carichi di rifiuti lasciati a marcire all'interno dell'area che dovrebbe riaprire i battenti il 28 settembre. Questa mattina la si è intervenuta con due automezzi ed ha prelevato parte dei rifiuti intervento anche dell'ASL ma considerata l'estensione dell'area e lo stato in cui versa sembra molto difficile rispettare le date. Ce la faranno?